ciao a tutti e benvenuti nel canale youtube della maschera riposta io mi chiamo mosè dovete sapere amici che nell'ambito tra noi appassionati di giochi da tavolo siamo abbiamo tante posizioni diverse no su tanti su tanti temi su tanti argomenti spesso discutiamo ci confrontiamo e a volte abbiamo delle differenze anche proprio come si può dire di carattere quasi metafisico di carattere quasi teolo cioè non metafisico nel senso proprio della nostra sostanza proprio in termini di ideologia potremmo quasi creare delle diverse delle diverse fazioni dal punto di vista delle credenze per esempio ci sono alcuni che credono all'esistenza di darwin's journey altri che invece sono più agnostici da questo punto di vista beh signori noi abbiamo delle prove concrete dell'esistenza di darwin's di darwin's journey e proprio come dei novelli tommaso d'aquino abbiamo queste prove a posteriori ma molto a posteriori che vogliamo presentarvi guardate ecco qua vedete guardate è presente esiste è qui è con noi signori è darwin's journey di simone luciani e estore mangone con illustrazioni di paolo voto prodotto da thunder grief games ci è arrivato proprio oggi che è il 23 marzo del 2013 e ci è arrivato guardate insieme a questa espansione che si chiama plymouth port a quest'altra che si chiama darwin's worker a questa pacco di bustine a questo pacco di cerchietti colorati che non so bene cosa sia e a questo tubo che so ancora meno di che cosa sia insomma ma scopriremo che sembra un binocolo tipo ma che scopriremo non mi ricordo assolutamente nulla di questo gioco perché è passato un sacco di tempo dalla sua campagna kickstarter e questo spiega le diverse posizioni riguardanti scusate cerco di recuperare il pad mi sono dimenticato di avvicinarme perché dobbiamo prima di aprire queste scatole facciamo un piccolo recap della storia che c'è dietro questo gioco allora come stavo dicendo questo gioco è arrivato insomma parecchio in ritardo rispetto al progetto della campagna kickstarter quindi vediamo cerchiamo di dare dei dati proprio oggettivi diciamo vediamo se riesco a beccato eccolo qua darwin's journey l'ho beccato allora intanto il la campagna kickstarter è terminata il 28 gennaio del 2021 quindi signori più di due anni fa e vediamo la mia pledge è il darwin's journey collector's edition da 70 euro estimated delivery cioè la consegna stimata era novembre 2021 amici quindi pensate è un ritardo di insomma un anno e mezzo rispetto 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 a quel a quel quel progetto a quel progetto iniziale e appunto la mia il mio pledge include darwin's journey base game all unlocked stretch goals metal coins che boh presumo siano dentro la scatola soft plastic wax seals ma cosa sono questi o forse sono dentro la scatola non lo so fireland expansion included in the main box all unlocked collectors stretch goals e access to the thunder grief bazar vabbè questi componenti non vengono neanche forse sono inclusi appunto in queste robe che sono state che sono state appena dette va bene amici naturalmente oltre a questa pledge da 70 euro ho anche dovuto pagare le spese di spedizione no andiamo a vedere qua a quanto ammontano le spese di spedizione guardando cosa è scritto nella campagna vediamo un po eccolo qua shipping allora noi siamo nella zona a 14 euro ok quindi 84 euro ma tutto sommato non è neanche così tanto no considerando considerando il la molle diciamo di di materiale che c'è che c'è arrivata un buon prezzo forse tutto sommato tutto sommato anche onesto certo non è onesto il ritardo che ha accumulato che ha accumulato la campagna vabbè ormai ce ne siamo fatti tutti una ragione bene signori abbassiamo finalmente lo sguardo sul tavolo da gioco e scopriamo insieme il contenuto di queste scatole eccoci al tavolo signori con darwin's journey collector's edition di simone luciani nestore mangone illustrazioni di paolo voto e produzione di thunder grief games vi faccio vedere la scatola un po da tutti da tutti i suoi suoi lati ok vi faccio vedere anche allora guardate intanto queste indicazioni interessano a molti dai 14 anni in su da 1 a 4 giocatori 30 minuti per giocatore e ecco interessante il fatto che ci sia guardate questa è un'ottima idea no è uguale da tutte le parti ma no guardate cioè se uno la mette in orizzontale può mettere questo lato visibile no se uno la mette in verticale invece può mettere questo lato visibile no quindi sono tutti e due gli orientamenti disponibili diciamo dietro guardate c'è un bel po di testo che adesso ovviamente non vi leggerò questa è la versione come vedete in inglese ok comunque vi dico semplicemente quello che c'è scritto qua cioè è un gioco di piazzamento lavoratori in cui i giocatori darwin's journey è un gioco di piazzamento lavoratori in cui i giocatori ricordano le insomma i ricordi cercano di richiamare i ricordi di charles darwin e delle sue avventure nel galapagos dove ha sviluppato la sua teoria la sua teoria dell'evoluzione ha un innovativo worker progression system che non so bene cosa voglia dire non mi ricordo assolutamente come funziona questo gioco forse un po l'avevo studiato al tempo della campagna kickstarter ma ragazzi è passato tanto tempo che non mi ricordo assolutamente nulla comunque vabbè dura cinque round bisogna ricercare delle specie animali sulla terra e nell'acqua studiarle scientificamente vabbè sono temi che abbiamo già che abbiamo già peraltro visto toccati anche in altri anche in altri giochi signori vediamo cosa c'è all'interno della scatola a questo punto e vediamo se riesco ad aprirla con la sola imposizione delle mani ma mi sa di no vediamo o forse sì ragazzi attenzione ce l'ho fatta con la sola imposizione delle mani quindi togliamo questo questo cellofan e scopriamo insieme cosa c'è all'interno molto bene via questa plasticaccia intanto vi voglio dire che la scatola è molto bella con queste scritte a rilievo anche il disegno si vede ma forse non si apprezza molto noi in un video però insomma è molto molto piacevole da vedere e il cartone sembra di ottima qualità peccato che non ci sia una decorazione all'interno questa è sempre una mist opportunity no e copiate da copiate da everdel no e anche da altri giochi che mettono delle belle decorazioni anche all'interno all'interno del coperchio o vediamo cosa c'è all'interno della scatola allora ci sono queste planche a doppio strato che presumo siano le planche dei ups scusate vi ho dato una sberla nel frattempo presumo siano le planche dei giocatori vediamo le sono in cellofanate anche queste ma possiamo tranquillamente aprirle così da vederle un po meglio allora è uscita questa roba che non so cosa sia questa fustella eccola qua la metto da parte e guardate queste sono beh sono molto carine sono appunto plance a doppio strato con una simbologia che immagina c'è anche dietro ma è uguale no forse dietro è per il giocatore singolo spesso per il retro delle planche per i per il giocatore singolo vediamo se sono diverse ragazzi allora sono diverse cioè sono diverse per colore però forse sono anche diverse per simboli forse no vediamo un po no per vedere se c'è magari una simmetria di partenza forse no forse mi pare che come simboli siano siano uguali sono solo diverse per colore va bene ok perfetto quindi queste immagino siano le planche giocatori altre fustelline guardate con dei tasselli il cartone non è spessissimo però sembra di buona qualità insomma anche le immagini sembrano sembrano buone c'è anche questa fustellina solitaria guardate e poi c'è ah ci sono altre due fustelle qui vedete con tutte queste con tutte queste tesserine tra l'altro è proprio oggi è arrivato un aggiornamento per chi ha sostenuto appunto questo gioco nel kickstarter proprio oggi è arrivato un aggiornamento che spiega come fare come fare il reboxing cioè praticamente come mettere la roba bene dentro dentro la scatola dopo aver defustellato tutto quindi sarà interessante vedere un po come organizzare la scatola questo è il tabellone guardate questa è la plancia diamo un'occhiata alla plancia principale di giuoco piegata varie volte molte volte ecco qua mamma mia cioè sì insomma è una plancia di un certo livello che non riesco neanche a mettervi tutta nell'inquadratura così è storta però mettiamola nella giusta nella giusta direzione allora nella parte bassa vedete sembrano esserci tipo degli itinerari di viaggio forse questa sembra una specie di mappa nella parte alta invece c'è più guardate cambio un attimo scusate l'inquadratura vedete c'è più un andamento più a più da euro game quindi con dei tracciati con delle zone forse in cui piazzare i lavoratori non non resta tanto bene giù ma insomma con l'uso immagino che poi la situazione migliorerà dietro ma attenzione c'è anche dietro quindi forse dipende dal numero di giocatori vediamo c'è un'indicazione da qualche parte qua che dice che questa è per un certo numero di giocatori perché la plancia è vedete double double face quindi sì secondo me sì è per un numero diverso di giocatori o magari è per giocare in solitario vabbè insomma questo è l'altro lato comunque ok quindi ci sono due lati diversi ok bene ripieghiamola possibilmente senza distruggerla ecco qua perfetto mettiamola da parte e torniamo alla scatola eccola qua allora dentro la scatola abbiamo signori manuale di gioco che è una roba pazzesca è la treccane ampliata cosa è sta roba è veramente veramente quante pagine sono ragazzi è veramente spesso 5 6 ma come 5 6 ma no 10 ma no le pagine ricominciano da capo un sacco di volte come sta storia 22 26 30 33 35 a ok perché poi ricominciano da capo allora sono 35 pagine di gioco base più vedete qui ricomincia da capo 7 vediamo un po 8 9 10 11 e quindi comincia da capo un'altra volta 23 ma che scelta strana cioè ma è un libro unico fai un'unica numerazione no ma è comunque ragazzi un manuale veramente importante veramente cospicuo porca miseria ve lo sfoglio velocemente ma ovviamente non ci mettiamo qui a guardarlo nel dettaglio e qui ci sono vedete c'è la lista delle componenti qui c'è il setup ma come mai un manuale così va beh sarà pieno di esempi spero perché non credo che il gioco sia così complesso player setup playing the game vediamo un po round structure ok cavolo vabbè tutte le varie azioni ma ragazzi sembra sembra complicatissimo cos'è sto manuale lunghissimo reward phase final scoring a ok perfetto in realtà metà manuale del gioco base che comunque è tanto è cioè 25 pagine di regolamento ragazzi per il solo per il solo gioco base interessante poi ci sono le solo rules vedete eccole qua gameplay molto bene sapete che noi non ci occupiamo particolarmente di giochi in solo però qui sembra molto curato e poi ci sono le espansioni no fireland expansion ok poi vediamo un po cosa abbiamo animal companion mini expansion great ship mini expansion pirates mini expansion mamma mia scenarios mini expansion vabbè 850.000 espansioni è un po tipico dei kickstarter ai noi forse un tema su cui meriterebbe che meriterebbe un approfondimento va bene mettiamo da parte il manuale torniamo nella scatola c'è il player aid ma uno solo scusate apparentemente sì c'è un player aid eccolo qua è un player aid scritto peraltro in carattere bisogna addestrare un aquilotto e farglielo leggere perché è veramente in carattere minuscolo vabbè ok perfetto piuttosto insomma che non ci sia meglio che ci sia poi vedremo quando parleremo del gioco nel dettaglio capiremo se è un player aid effettivamente utile poi abbiamo delle ricche simpatiche fustelle cari amici prima di guardare il resto guardiamo queste ricche simpatiche fustelle dove ci sono delle monetine vedete delle tile noi dovremmo avere anche le monete di metallo però vi faccio vedere tutte vi faccio vedere tutte le fustelle eccole qua queste quattro fustelle molto bene perfetto ottimo mettiamole da parte e attenzione perché guardate cosa c'è qua dei belli un bellissimo insert in plastica ragazzi diviso vedete in tre pezzi bellissimo insomma la plastica la plastica non è proprio il massimo della qualità è abbastanza cheap però vabbè insomma apprezziamo il fatto si apre sta roba o ok si si apre e guardate abbiamo questi mipolini questi sono forse i lavoratori non ne ho la minima idea comunque abbiamo questi bei mipolini colorati poi abbiamo questi altri bei mipolini sagomati quelli sono mipol classici questi sono un po più un po più particolari ve li faccio vedere guardate questi bei cosa rappresenteranno questi qua degli esploratori forse hanno il cappellino da esploratore vi faccio vedere anche appunto questi mipol poi abbiamo vediamo un po cosa sono ste robe abbiamo dei che carini questi sono stampati questi token sono stampati non ho assolutamente idea di cosa siano ok comunque c'è una bella nave vedete e tanti bei tokenini stampati che non so assolutamente che cosa rappresentino poi vediamo che cosa abbiamo qua questi sono molto simili hanno una rappresentazione diversa ma sono molto simili semplicemente quattro cubetti colorati e questi hanno degli altri simbolini però sono sempre simili ai primi ok molto bene rimettiamo i contenuti dentro questo vassoio poi abbiamo quest'altro vassoio che è in gran parte vuoto ma qui c'è la roba immagino che si preleva dalle fustelle qui abbiamo guardate delle navi vedete queste non sono stampate delle belle navi colorate e poi qui abbiamo invece delle navi che sono stampate mi sembra no solo una solo una è stampata solo questa di questo colore è stampata le altre no non so assolutamente a cosa servano e ragazzi ve le sto solo facendo vedere devo ancora appunto insomma studiarmi per bene il gioco comunque questo era un altro appunto vassoio e il terzo e ultimo ultimo vassoio vedete che è più grande apriamolo include allora delle boh dei sacchettini questi sono semplicemente delle ziploc un bel sacchetto finemente istoriato con colori anche fin troppo psichedelici ma insomma vabbè ok ma una scelta di design un po singolare per un gioco con questo tema qui ne abbiamo una invece forse un po più in tema diciamo quest'altro sacchettino più piccolo vedete che ha questa roba qui che non so cosa sia tipo una pergamena sembra eccolo qua poi abbiamo eccole le monete di metallo o andiamo a dare un'occhiata alle monete di metallo allora le abbiamo in formato 5 eccole qua e ve le faccio vedere non so se siano riproduzioni di monete vere vedete qui c'è il profilo di qualcuno e qui c'è cos'è sta roba non riesco neanche a capire cos'è rappresentato qua ragazzi cos'è cosa cosa rappresenta non riesco tanto a cosa c'è un grifo un'aquila riconosco delle ali ma è un po troppo affollato c'è c'è dell'horror vacui in questa moneta anzi c'è della moneta in questo horror vacui rimettiamole nel sacchetto vediamo quelle invece da uno ve le faccio vedere allora eccole qua sono un po sono un po sottili queste qua cioè avevano un bel peso quelle altre queste qua meno ok qui sembra essere cos'è sta roba una pollo una statua antica cos'è e un profilo anche da questa parte non lo so magari sono riproduzioni storiche sono un po cheap questa cioè danno l'impressione di essere un po cheap sinceramente un po un po tanto sottili però vabbè ok quindi queste sono le monete le monete di metallo molto bene rimettiamole nella loro apposita sede poi qui abbiamo tanti bei segnalini allora vediamo cosa abbiamo abbiamo questi qua cosa sono queste queste sono tende vedete tende del colore dei giocatori forse ci si accampa nel gioco poi abbiamo queste qua guardate che carine questi sono libri cosa sono scarabèi cosa sta roba bestio feroce svegli e libri cioè svegli orologi sono orologi tipo da taschino vedete sono tutti stampati carini interessanti qui abbiamo dei cubetti come se piovessero e qui abbiamo dei meeple come se piovessero presumibilmente del tutto simili a quelli che abbiamo visti prima somigliano un po ai meeple di the gallerist più o meno formato è un po quello diciamo poi qua guardate abbiamo dei segnalini tipo di cosa sta roba sono quelli di viticulture cos'è solo dei ah no ma no non sono quelli di sono molto più cheap di quelli di viticulture sono di plastica credo sono molto leggeri molto insomma poco consistenti non so bene cosa debbano rappresentare boh non lo so lo scoprirò giocando e poi guardate qui abbiamo anche questi cosa sono questi tipo dei sigilli in plastica sono di oddio sono di gomma tipo oh my god sono di gomma ma infatti si attaccano anche fra di loro vedete a cosa serviranno questi qua ragazzi forse sono fatti apposta per attaccare non ho mai visto dei componenti fatti così in un gioco da tavolo carino sono robe di gomma sembrano dei sigilli dei timbri tipo dei sigilli di ceralacca però non so sinceramente non so bene a cosa possano servire vabbè interessante sono curioso di vedere come saranno utilizzati questi nel nel gioco curioso e poi sono le carte amici due mazzi di carte eccoli qua ok vi faccio vedere un mazzo di carte ad esempio questo qua più grande giusto per vedere come sono sempre se riesco ad aprirle cosa che probabilmente va al di là delle mie possibilità no ce la posso uscire cioè scusate ci posso riuscire ormai non riesco neanche più a parlare italiano buttiamo via sta plasticaccia e vediamo hanno una freccetta sotto guardate cosa vorrà dire sta roba sono tutte dello stesso tipo no queste hanno semplicemente ok questa non non so cosa sia great ship ok questa sono tanti tipi di carte diverse cos'è sta roba gameplay setup setup animal companion mini expansion ok sono anche carte che riguardano le espansioni però non serviva che ci fossero le istruzioni qua perché c'erano anche nel manuale no quindi boh sono comunque tante di tipo diverso vedete ci sono queste ci sono queste qui ve le faccio vedere anche su questo lato ovviamente non sapendo bene a cosa servono è un po è un po inutile insomma guardarle però ecco qui sembrano esserci quei sigilli forse vanno messi sulle carte sono un po tipo dei contratti da completare forse non lo so sto facendo delle ipotesi così un po a caso vabbè io ho fatto vedere queste questo questo mazzo di carte non vi faccio vedere non vi faccio vedere anche l'altro e tra l'altro nella mia versione c'era anche fuori dalla scatola questo sleeve pack vedete premium sleeve pack che peraltro era già aperto guardate nella nella scatola quindi non chiuso benissimo diciamo però vabbè però sapete che ho dei dupi cioè se le carte devono andare qua ragazzi siamo sicuri che ci siano imbustate forse sì forse vanno un po qua e un po qua forse questi non vanno realmente qua e queste sono le due sedi per le carte cioè così così sembra da come da come sono progettati quindi forse imbustandole poi occupano entrambi questi questi slot va bene quindi signori abbiamo visto tutto il contenuto della scatola principale del del gioco vediamo se riesco a richiudere avrò un po da fare poi per organizzarlo per bene dentro gli insert e per studiarlo per bene però ecco dopo aver visto il contenuto della scatola vediamo anche un po le le espansioni ma intanto ci sono queste robe qui che non so bene che cosa siano non so bene a cosa servano cioè boh hanno tipo una cosa sono delle lenti tipo sono delle lenti secondo voi vediamo un po non capisco boh hanno sta roba ecco ne ho anche perso uno ecco un altro bene sto facendo disastri irreparabili comunque vedete sono anche stampate da un lato niente mi vanno tutte per terra ragazzi non c'è non c'è non c'è speranza vedete sono anche stampate da un lato cioè la plastica è stampata ma dentro di cosa sono fa cioè plastica anche dentro vabbè insomma capiremo capiremo di che cosa si tratta giocando ok le rimetto via ce ne sono 850 mila per terra ma quelle le recupero dopo e andiamo a vedere invece cosa c'è per esempio ma sapete che a me incuriosisce tantissimo sto tubo cos'è sto tubo ragazzi andiamo a scoprire cosa c'è cosa c'è dentro sto tubo vediamo un po questo però mi sa che con la mia sola forza delle mani non riesco sì 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 ci riesco ok ho trovato un pertugio vediamo ragazzi cosa c'è dentro sto tubo che sembra molto bello peraltro vedete si apre si apre qua guardate ok eccolo qua e cosa c'è ma c'è il play mat ma fanta un play mat che non riuscirò mai a tirar fuori dal tubo vediamo ok ce l'ho fatta ma dai c'è il play mat ma fanta è in due pezzi ok perché c'è uno per la parte bassa della plancia eccolo qua vedete double face e c'è uno per l'altra parte della plancia ok però sapete che cosa arrivo a dirvi che non sarebbe stato possibile fare in modo che chi riceve il play mat non riceva anche la plancia cioè non è un po non è un po uno spreco adesso che io abbia sia la plancia sia il play mat comunque vabbè sembra di buona qualità c'è sempre il fatto che rispetto alla plancia la qualità della stampa è sempre leggermente inferiore guardiamo se riusciamo a fare un confronto diretto è sempre leggermente inferiore no però in questo caso mi sembra che abbiano fatto un buon lavoro è guardate guardate allora vedete si si nota sino non so se riuscite a notarlo però la il play mat è sempre un po più sgranato diciamo vedete rispetto alla plancia la plancia è più la stampa su carta diciamo è più crystal clear della stampa su su sul play mat però va bene insomma ci piace ci piace ugualmente ok quindi dentro il tubo amici c'era il play mat ci manca di vedere cosa c'è dentro questa roba qui guardate falmo sport quindi diamo un'occhiata anche a cosa c'è qua dentro sarebbe bellissimo tra l'altro se ste robe qui poi ci stessero tutte all'interno della della scatola del gioco forse chiedere troppo però va bene allora vediamo cosa c'è dentro questo fa falmo sport vediamo un po allora amici abbiamo vediamo un po abbiamo beh intanto abbiamo sta spugna che cosa serve solo a riempire la scatola questa mini fustella guardate eccola qua poi abbiamo le istruzioni ma forse c'erano anche queste nel manuale non lo so comunque insomma le istruzioni poi abbiamo guardate questi mipo la forma di cavallo e a forma di nave carini guardate interessanti ok e poi guardate questi uno due tre qua presumo ognuno uno per giocatore queste quattro plance aggiuntive tipo che mi sembrano uguali siano anche forse i diversi colori vedete dei giocatori questa 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 righetta è di colore diverso in base ai giocatori ok quindi questo signori è quello che c'era ma secondo me sta roba qua riusciamo a farla stare proprio in scioltezza dentro alla scatola principale spero almeno vedremo vedremo quando faremo quando cercheremo di sistemare tutto e poi c'è anche questa qua guardate l'ultima roba che devo mostrarvi è la darwin worker mini expansion vediamo vediamo è dentro questa busta di carta che possiamo aprire in questo modo e che cosa c'è all'interno attenzione c'è un lavoratore dentro questa bustina con il pluriball distruggiamo la bustina con il pluriball dentro c'è un'altra bustina e dentro c'è questo lavoratore che non so assolutamente a cosa serva guardate è un mini darwin guardate carino vedete con la barba le mani dietro la schiena giusto no forse forse le braccia ciondolano uno in avanti uno all'indietro e poi dentro guardate c'era questa micro fustella e questo e queste carte forse con un regolamento e qualche carta forse da aggiungere al mazzo non lo so vabbè insomma questo era il contenuto di questa mini espansione signori abbiamo visto tutto il contenuto di tutte le scatole le scatoline di darwin's journey bene amici quindi questo era il contenuto della tanto attesa scatola di darwin's journey signori dopo tutto questo tempo finalmente è arrivato e non vedo l'ora di provarlo non vedo l'ora di vedere come funziona e non vedo l'ora di scoprire soprattutto se insomma tutta questa attesa poi è valsa la pena perché questo alla fine è la cosa che ci che ci che ci interessa di più quindi naturalmente alla prima occasione lo proveremo e speriamo presto vi sapremo dire che cosa ne pensiamo con i nostri consueti con i nostri consueti contenuti io intanto vi ringrazio per aver guardato questo unboxing mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto abbonatevi anche al canale per scoprire i nostri video esclusivi riservati agli abbonati e andate se non l'avete ancora fatto andate a vedere la nostra pagina tp che trovate linkata qua sotto in descrizione perché troverete tanti modi al suo interno per sostenere il nostro progetto critico e divulgativo io vi ringrazio moltissimo per aver guardato questo video e vi do appuntamento ai tanti prossimi contenuti che pubblicheremo qui sulla maschera riposta ciao ciao